Oggi giovedì 15 agosto un grave incidente si è verificato in una provincia di Cremono un uomo di 76 anni è stato investito da un trattore ha perso la vita sul colpo l'incidente è avvenuto a Motta Baluffi dove il padre e il figlio stavano lavorando nella mattina di ferragosto il figlio mentre manovrava il trattore retromarcia ha travolto il padre senza accorgersene immediatamente sono stati chiamati i soccorsi la centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della lombardia reu ha inviato un'ambulanza della Cremona soccorso di vescovato e un'automedica tuttavia i medici e i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo che era gravemente ferito l'identità della vittima non è stata ancora rivelata oltre ai soccorsi sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'incidente determinare eventuali responsabilità maggiori dettagli sull'accaduto potrebbero emergere nelle prossime ore